Io in questo momento sto sorridendo perché le novità ci sono, sono di mezz'ora fa. Sorrido perché il nostro attivista Cristian D'Alessandro è stato finalmente scarcerato oggi pomeriggio dopo due mesi di reclusione in una prigione russa. È stato arrestato ingiustamente, accusato prima di pirateria poi di vandalismo. Diciamo che questa per noi oggi che lo conosciamo ovviamente è una giornata di felicità non solo per lui, per la sua famiglia, ma anche perché è un piccolo passo questo verso l'affermazione del diritto di protestare pacificamente, come sempre nello stile di Greenpeace contro qualcosa che si ritiene profondamente sbagliato. Ricordiamo che, come è nata questa storia? Questa storia è nata perché un gruppo di 30 attivisti il 19 di settembre era a protestare nell'Artico contro le trivellazioni della Gazprom e è stata abbordata la nave di Greenpeace, l'Arctic Sunrise dalla Guardia Costiera russa e gli attivisti sono stati arrestati in maniera violenta e portati in una prigione a Murmansk e poi trasferiti a San Pietroburgo un po' di tempo dopo. Purtroppo non è ancora finita perché soltanto metà degli attivisti finora sono stati rilasciati su cauzione, però le accuse sono ancora in piedi. Quindi noi ovviamente non ci fermiamo. Bisogna ricordare anche che l'attivista australiano Colin Russell è ancora in prigione per altri tre mesi, gli è stata confermata la custodia cautelare per altri tre mesi. Quindi noi continuiamo a fare quello che abbiamo fatto in questi due mesi, cioè mobilitazioni, azioni volte a sensibilizzare e a chiedere a tutti quanti di firmare la nostra petizione. Abbiamo raccolto più di due milioni di firme, quindi c'è stata una partecipazione straordinaria a livello globale, ma non possiamo fermarci finché tutti quanti non saranno veramente fuori e liberi. Quindi noi quello che stiamo facendo è anche chiedere appoggio a livello politico. Abbiamo chiesto la partecipazione dei sindaci d'Italia e per fortuna stanno rispondendo in maniera molto attiva. C'è stata una buona risposta delle forze diplomatiche italiane in tutta questa vicenda, quindi ringraziamo il Ministro degli Esteri e la Bonino per aver lavorato alacremente a favore del nostro attivista. E adesso quello che chiediamo è veramente a tutti quanti di continuare a firmare la nostra petizione andando sul sito www.greenpeace.it.artic. Si può firmare mandando una lettera ancora alle ambasciate per far sì che tutti gli attivisti vengano rilasciati in via definitiva. E poi chiediamo anche di firmare la nostra petizione per salvare l'Artico, quindi www.savetheartic.org. Grazie.